Iniziamo già benissimo benissimo ciao ciao tipo sì sì puttana ragazzi perché ho deciso di portare su sta roba perché ho deciso di portare su sta roba è l'intro del gioco quindi fa vedere almeno grosso modo cosa dovremmo passare noi quali pericoli ciao tipo sei impiccato non voglio fare la tua stessa fine ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video io sono daniel oggi siamo su reporter 2 come avrete capito dalla breve intro che ho fatto guardando il trailer del video è una cosa pazzesca prenderemo talmente tanti spaventi questo è il primo episodio porterò avanti un altro prima di lasciarvi un nuovissimo video volevo dirvi che chi non è iscritto al canale si iscriva subito mettete un bellissimo mi piace e un commento condividete il video con i vostri amici e buona visione andiamo lesti adesso a prendere il telefono perché non mi piace affatto eccolo qua eccolo qua eccolo qua buongiorno buongiorno che cosa vuole ci mettiamo qua computer si e perché sono qua perché sono qua perché sono in questa situazione prendiamo un buco da questa è la fotocamera qua non si può entrare qua che cazzo sono sti sti cose ragazzi 1982 2017 tutta gente tutta gente morta e che bello questo tipo qua si tiene un tipo di investigatore questo tipo qua si tiene tutte le foto dei tipi dei tipi deformi e bei gusti complimenti allora andiamo andiamo non ci resta che andare sento già dei bruttissimi rumori raga sono convinto che questo è l'unico episodio di reporter 2 che sarà tranquillo che sarà tranquillo se porterò altri episodi anzi se porterò perché se non morirò prima penso che tutti gli altri faranno veramente paura e mi caccherò soprattutto io perché l'inizio dei giochi tipo di mental hospital così raga sono tutti così si si bello 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 dopo la fine seconda missione pam demone ti uccide ragazzi io sono un esperto di videogiochi horror però a morire perché se volete morire a un gioco sapete chi chiamare qua allora devo prendere le cure cioè le batterie si prendiamo le batterie e prendiamo anche la macchina qua ok adesso che ho la macchina qua qua la porta è chiusa e non mi resta che ci si può anche accovacciare si però tipo non mi sembra che è il caso di accovacciarti adesso perché non c'è nessuno ma io dico hai una casa così bella non c'è un cazzo eh però comunque la tv c'è la cucina c'è e dico vai vai e no no sta qua va via non so se ho detto qualcosa di di giusto però comunque sta in casa sta in casa brutto coglione siamo arrivati in un posto non molto bello che non assomiglia per un cazzo camera mia perché ci sono molte più luci sarebbe il giardino tipo se il giardino complimenti perché è veramente allestito bene qua ma manca tutto ma manca tutto ma c'è un'ambientazione talmente buia talmente schifosa che messo wow 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 bambina bambina che cazzo sta succedendo raga che cazzo sta succedendo guarda che se sei lì vai raga raga ma mi sembrava di averla vista eh no è una mia idea è una mia ok ti lascio ti lascio in bagno eh no basta che non vieni a me a rompere le palle questo qua cos'è un armadio e questo no non me lo fa bene prendi la tazzina e spaccala in testa qualcuno arriva qualcuno pam ti tira la tazzina in testa brutto coglione questo qua è ragazzi come si chiama quel quel mega tipo un megafono dove mette dentro il disco lì non mi ricordo come cazzo si chiama questo qua è una porta è chiusa naturalmente tutto chiuso buongiorno tipo potevi startene a casa tua che cazzo sei venuto a fare qua ma dai dopo chi ci rimette è sempre il giocatore che prendi di quegli infarti pazzeschi e anche ma almeno fa allenamento eh perchè comunque andare avanti indietro avanti indietro cercare chiavi comunque allora cos'è questo è un codice 25 grazie cosa me ne faccio questo mi pulisco il culo eh puttana prendiamo questo mettiamolo in testa il prossimo demone che arriva lo carico con dei tiro di quelle testate con quello qualcuno ha iniziato a suonare per caso buongiorno allora desidero la chiave 5 per la stanza grazie e per favore vestiti perchè sei nuda e stai perdendo anche un po' di sangue dalle tette grazie con cose che meno in pubblico non far vedere eh allora 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 andiamo qua da soli perchè la brutta compagnia non è mai cazzo è sta roba no sono io un coglione sono io un coglione dobbiamo andare qua ragazzi dobbiamo andare qua perchè sto parlando a bassa voce non lo so ok ok siamo arrivati oh che bella accoglienza l'accoglienza del 2018 si adesso mi spunterà fuori qualcuno ragazzi termino qua questo fantastico video di reporter gioco horror cazzo stai tu hai permesso di chiuderti mi sta aperta sono in mezzo io gioco assolutamente bellissimo e da provare da portare sul canale fin quando non mi arrivo qualche infarto vi ricordo che chi non si è iscritto al canale si iscriva mettete un bellissimo commento e un mi piace e vaffanculo te porta che ti chiudi condividete il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao